Come avete già visto dalla serie del hacker, i provini per il team sono ufficialmente aperti E devo svelarvi, c'è un nuovo membro del team che è appena entrato nel team Perché è passato questo provino, è passato, è già stato sul canale Vi sto dando un indizio enorme, forse una volta In un video c'è stato, quindi regà potreste trovarlo questo ragazzo Però è molto molto difficile perché mi sa che ha fatto solo un video con me E regà, attenzione, attenzione, questo qua è il provino del membro misterioso Questo qua è il provino, prossimo video, o comunque è un prossimo video dove ci sarà Vi svelerò chi è, intanto scrivetelo qua sotto nei commenti, vediamo un pochettino Quella inizia già Calpis Eh, inizia già Eh, vabbè, no, vabbè Braga ovviamente sa chi è il player in questione, lo sappiamo Beh, direi di sì ovviamente, giustamente Bisogna consultare anche il vice capo Braga Sirato, team credibile Comunque, vediamo un pochettino al provino di questo nuovo membro Voi scrivete qua sotto nei commenti, secondo voi Chi è, perché c'è stato sia sul mio canale che nel tuo canale Braga Eh, nel mio non lo so, penso una volta Sì, 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 forse sì Se indovinate vi lascio il cuoricino Quindi state attenti ai commenti, quelli col cuoricino Perché vi sveleranno diciamo chi è il membro Ovviamente se qualcuno indovina, perché se non indovina, eh, niente da fare Ovviamente lui come nome non si chiama nome, ma si chiama nuovo membro Eh, quindi ragazzi ci vorrà un po', ci vorrà un po' per capire chi è Però solamente i più svegli lo sapranno Intanto una kill per lui, è atterrato a Canyon Condominiale E vediamo un pochettino come se l'accava Zero maz Zero maz, questo qua ha qualche problema palesemente Si vede lontano un miglio che sicuramente ha le stesse doti di Braga Di Braga, strano, strano A parlare, a parlare, quindi ancora peggio 3 kill per lui Ha ucciso anche il Chroniclet 5 Molto molto bravo Beh, per ora ragazzi, sono kill abbastanza semplici Però una cosa che mi piace È che lui usa la scivolata Cioè non so se tu lo noti Ma lui sfrutta molto la scivolata Vero, vero, vero Io non la uso mai Io non la uso mai Forse perché è da mouse e tastiera Quindi ci può anche stare Ma io sono da mouse e tastiera E comunque non la sfrutto Ah no Quindi, boh vabbè Comunque ci può stare Ci può stare Una cosa positiva Una cosa positiva Attenzione 85 per lui Vediamo un pochettino Edith è riuscito Ma qua un bellissimo 137 La mira non è per nulla Per nulla male Ma ragazzi Il team non è al completo Solamente con lui Non è al completo Ci saranno altri membri Quindi se volete provare A fare il provino Scrivetemi su Instagram Calpis Potrei scegliere qualcuno di voi Per fare il provino E ovviamente Passate in live Fatemi notare In salle privati Comunque Ci può stare Ci può stare Intanto Ha fatto Io ne stavo parlando Non mi sono accolto di nulla Ho fatto tante file È già sei Mamma mia Stavo dicendo Le live alle 8 Mi raccomando Le live alle 8 Attenzione Un altro player Vediamo un pochettino Come se la caverà Contro di lui Miss a caso Attenzione 71 E balla Che brutta persona Non mi sembra Una kill così bella Da poter ballare Non mi sembra assolutamente Però Riga 7 kill In solo così Tanto di cappello Complimenti Complimenti Nuovo nemico Qui davanti Bellissimo Brutto miss Brutto miss Cosa Però Edit Molto Molto Puliti E il gabbedano Si uccide subito Ma poi perché Questo qua Ha la skin Ha una skin Quindi Non è un account Nuovo Ah no ma La skin Quella di Natale Allora potrebbe essere Un account No vabbè Non lo so Comunque C'è chinata Bellissima Non è vero Molto brutta Double edit Molto fluido Se devo essere sincero E qua È stato molto intelligente Qua è stato molto Molto sveglio Il Bricker Bracker Ci muore subito Il Bricker Bracker Perché Uno stupido Come Bracker Ha detto Edito la scala No Tu l'avessi fatto Io Sì Probabile Va dietro Lui va dietro Il nostro eroe È andato a Bobine Brulle Ragazzi Bobine Brulle Spacca la pietra Vediamo un po' Che riutilizza La scivolata E qua si vede Un pacco regalo Cosa trova Secondo te Cosa trova Secondo me Trova l'errore Pompano Io dico MK7 Tu che pompa Veloce Pompano Vabbè Abbiamo sbagliato Tutti e due Però che sfiga È aprire un pacco regalo E trovare il coso La cappa oro Direi che è veramente Triste come situazione Si fa il big In giro per il mondo Diciamo Sono rimasti Solo in 17 Sì Sono curioso Di quanto è che Riuscirà a fare È una partita Molto molto veloce Molto 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 veloce Intanto abbiamo Sei pesci piccoli Sei mini shield 15 trappole Cioè è messo Veramente da dio 15 trappole Sono anche detti Muni indistruttibili Senti Non rompere le scatole Non mi correggere Perché Eh Comunque È messo veramente Tanto tanto bene Volevo dire ragazzi Per avere 9 kill Perché Di solito Quando uno Fa tante kill In pubblica È messo Certo Flexiamo Flexa Flexa Pagliaccio Pagliaccio No non è vero Non insultiamo Come un membro Ci sarà tempo Per insultarlo Non è questo Dell'ora Non è questo l'ora È il momento Per insultarlo Intanto sblocca pure Mitico livello 10 Del battle Battaglia Attenzione Cecchinata Bellissima 20-20 Non è vero Bruttissima Cecchinata Bellissima 90s runner Vediamo Eh col cecchino Non mi piace Col cecchino Cecchino Sono un attimo Più bravo io Ci sta Ci sta Oh Il nemico Il nemico Deve entrare nel team Come si chiama Che lo invito subito Vogliamo il nemico Voglio il nemico E qua ha fatto pure una mossa Per farci dire Oh ma che cavolo succede Hai visto quello scattino No 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 Io voglio il nemico Voglio il nemico Uccidilo per favore Che lo voglio Subito Lo voglio subito Che si rimpiazza Bra No fa cacare Non lo voglio più Non lo vogliamo più Basta Non lo voglio più Basta Facciamo Il nemico Il nemico Va bene Io e basta Il team migliore Io e basta Big shieldone Per il mitico Non dico chi Eh Volevate Volevate Che dicessi il nome No Ancora troppo presto Ancora troppo presto Dopo ci faranno Un sacco di sfide Per decretare Chi è il più forte Del team Non vorrei vincere Tutte io Ma Comunque Tranquille che ci sono Anche io Non per dire Questo sarà Una cecchina Guarda È simpatico È simpatico Perché Sbaglia le cecchinate Fa così È per questo Che dentro il team Anche per una questione Di simpatia Ragazzi E esce A quanti colpi Avrei già tirato Si sta arredendo No Basta Non usarlo Fai la brutta figura No Eh vabbè Pure il lupo Gli ha detto Oh cretino Cosa fai Non usare il cecchino Cioè Sai usare il pompa Tanto bene L'MK7 Non usare il cecchino Lascialo a braga Ma in cuore Lascia la braga Vediamo un po' Non si arrende Non si arrende Lo fa vedere Con la visuale Che ce l'ha fatto Dopo anni Vediamo Emozioni Emozioni vere Nuovo membro Nuovo membro E va like Bravo Nuovo membro Oh Oh il quad Oh ciao Ok prende la Lamborghini Vedi uno stupido Avrebbe detto Spara il quad Invece no Lui no Prende la macchina Capisce che Non è Non è Distruttibile Con così poca potenza Comunque il quad Si è svelato Un nemico Cioè in realtà I bot Intanto braga Dimmi Come lo vedi Questo nuovo membro Lo vedi forte Un buon player Molto bravo Bravo col pompa Però il cecchino zero Cioè non è una cosa Molto importante Però Il cecchino non serve Assolutamente a nulla Posso dire Posso dire che non serve A niente E cose secondo te Dove deve migliorare Cioè proprio Deve migliorare Forse negli edit Non so Negli edit La che era più veloce La che si Io volevo la che nel team Purtroppo Se n'è andato Ci ha tolto Ci ha bloccati Vabbè comunque Vediamo Adesso lo vediamo Lo vediamo Flexlex Vedi Vedi che sarà Quel miss C'è Carentino 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 Boom Perché comunque Bisogna essere simpatici Reattivi Pronti Non è solo Allegri Allegri Felici Saper parlare Ripeto Non lo diciamo Di no braga Ma Questi sono piccoli dettagli Intanto Abbiamo 16 kill Ho visto un nemico Dove 16 kill 11 kill 11 kill Se uccide tutti Fa 16 kill Intendevo quello Vai Bravo Oh Però MK7 c'è Se il nuovo membro C'è l'ha MK7 Spreca i muri Ma Come simbolo Di Oh Papapia Mi fa emozionare Mi fa emozionare Joe Pazzoid Joe Pazzoid Se lo uccide così Ragazzi Mamma mia E riusa le trappole Come segno Di beffa Verso i nemici Voi Fate così schifo Che spreco Le mie risorse Spreco Quello che Vabbè basta Sono comunque Molto scarsi I nemici Devo dire Un altro nemico Morto Quindi Attenzione Le kill Massime Che possono farsi E sono 15 Bellissima Non riesce A cercare Anche il corpo Però Vabbè E senti Era difficile Era Quella era molto difficile Perché è iniziato A muoversi Proprio in quell'attimo Posso Posso giustificarlo Qua possiamo giustificarlo Qua abbiamo un succo succoso Che non serve A un bel niente Abbiamo della carne Che non serve A un bel niente E invece qui Abbiamo il pompa Che non è ma Bravo Bravo Grandissimo Vediamo un pochettino Lui ha sentito qualcosa Ma perché sono sue queste build Aveva fightato prima Ma ciao È ritornato alle origini Proprio di forte Anità per la cesta Già che c'è Diciamo Delle chagge Non si buttano via Te ne fai una Te ne fai due Io l'avrei tenuto sinceramente Al posto di sei pesci piccoli Ma sono stili di gioco Sono opinioni Ecco non c'è il giusto Sbagliato Diciamo che se lo dice braga È sbagliato A crescere Giusto? Ne è giustissimo Giustissimo Bravo 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 Vediamo un pochettino ragazzi La partita è ormai Agli sgoccioli Cecchinata Non sei capace Non basta Arrenditi Ma anche se prima In realtà non era male Qua si è spostato All'ultimo Attenzione 11 shield 20 shield L'avversario è pietrificato Dalle azioni Del nostro pro player 144 E là Che bella è Qui Qui se l'è giocata bene Qua devo essere sincero Se l'è giocata molto molto bene Ti sta osservando 24 simboli Arabi Vabbè Adesso c'è l'ultima kill Come lo killerà Abbiamo 4 opzioni Io lo so già 1 Picconato 2 Buttandolo fuori Dalla session 3 È uno scoop No scoop Questo è uno scoop Era veramente Molto molto Ma diciamo che è più bravo Con i no scoop Che col resto Sì sì Non mirare mai più Non mirare mai più Comunque ragazzi Questo era il provino Del nuovo membro del team Chi sarà Scrivetelo qua sotto nei commenti Vi lascio un bel cuoricino Almeno 5000 like Per questo video E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao